Ciao a tutti e a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video, io sono Leonardo No ok, io sono Tommaso e oggi sono qui perché non so se ve lo riordate ma tempo fa Leonardo mi ha fatto una sorpresa Quindi oggi ho voluto ricambiare il favore e la sorpresa sarà una caccia al tesoro Perché questa caccia al tesoro lo porterà al suo regalo di Natale Quindi ora sto entrando, ho già messo tutti i bigliettini pronti, sono già dove dovrebbero essere E niente quindi ora lo devo solo aspettare e niente ci sentiamo fra un po' Grazie 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 a tutti. 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 Grazie a tutti.